Polmone verde, giardino, area di riferimento per lo sport e soprattutto lo svago. Sono tante le definizioni per descrivere caratteristiche e possibilità di fruizione del parco della stazione di Isernia. Stamane alla presenza dei vertici delle istituzioni, comunali e provinciali e di esponenti della giunta regionale del territorio, l'atteso taglio del nastro. Atteso, dicevamo, per l'esattezza dal 2018, da quando cioè hanno preso il via i lavori di riqualificazione dell'area che, con i suoi molteplici ingressi, si propone anche come snodo di incontro di due tronconi della città. Campi e installazioni sportive, aree gioco, passeggio e certo non da ultimo tanto verde, abbiamo riqualificato un'area degradata e inutilizzata, restituendola alla fruizione della cittadinanza, rimarca con orgoglio il sindaco da Pollonio. Un'opera importante perché intanto riqualifica una zona che era degradata della città, quindi recupera la fruibilità un'area importante e poi è stato realizzato un parco pubblico che sarà ampiamente fruito dai cittadini per il relax, per il tempo libero, per le passeggiate, per lo sport, insomma tante possibilità, tante possibilità queste che verranno offerte da qui in avanti e soprattutto per i ragazzi, per i più giovani, per spazi di aggregazione, spazi per lo sport. Il parco realizzato grazie alla sinergia tra comune e ferrovie dello Stato, costato circa un milione e mezzo di euro, di cui 400 mila a carico dell'ente di Palazzo San Francesco. Dall'assessore Chiacchiari, anche a seguito dei recenti atti vandalici, verificatisi all'interno della struttura, l'appello alla responsabilità e al senso civico di tutti. C'è un po' di tutto, abbiamo installato anche una stazione bike sharing, insomma ci sarà tutto l'occorrente per avere un parco per qualsiasi età, dai più piccoli ai più grandi. La raccomandazione è sempre la solita, quella di saperlo custodire, il bene pubblico va custodito. Un bel messaggio di ripresa, in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo. Le parole del presidente della provincia, Alfredo Ricci, a margine della inaugurazione del nuovo spazio. Io credo che rappresenta comunque un bel messaggio, soprattutto perché cade in questo periodo, in un periodo di aperture, in cui si stanno tanto valorizzando gli spazi aperti e questo è uno spazio che può essere un'opportunità per tutti i cittadini di Sernia, per tutte le età, per i bambini, per i giovani, per gli anziani, per le famiglie. È un obiettivo a cui l'amministrazione comunale ha lavorato per molto tempo, si è impegnata, pur nelle difficoltà del periodo pandemico e quindi credo che è un momento importante che può dare quei messaggi di fiducia e di ottimismo e di positività buona, chiamiamola così, rispetto a questa fase che altrimenti è una fase difficile, ma dalla quale stiamo ripartendo, credo, alla grande con le giuste limitazioni.